con lo dico sempre se abbiamo una caldaia ecco quindi non una stufa a pellet ma una caldaia a pellet di buona resa quindi con alti rendimenti e una pompa di calore elettrica di buona resa i costi per riscaldare casa sono gli stessi senza considerare eventuale fotovoltaico quindi costa uguale riscaldare casa con il pellet e una caldaia a pellet di buona resa rispetto una pompa di calore elettrica che assorbe energia elettrica dall'enel però sono due stili di vita completamente diversi perché riscaldare con il pellet implica stoccare il pellet a trovare lo spazio per metterlo vuol dire caricare la caldaia ogni x giorni vuol dire pulire la caldaia vuol dire pulire la canna fumaria insomma ha tutta una serie di lavori che ad alcune famiglie possono piacere ad altre un po meno con la pompa di calore invece sei autonomo hai tutto online puoi controllare la pompa di calore da remoto se installi un fotovoltaico autoconsumi l'energia elettrica che ti produci mentre con il pellet non puoi produrre il pellet in casa dal punto di vista ambientale però stiamo parlando di due mondi completamente diversi perché effettivamente la biomassa inquina la biomassa inquina lo dimostrano anche tutti i decreti che sono usciti negli ultimi anni anche dai comuni che viettavano l'utilizzo della biomassa in alcuni periodi perché c'era un inquinamento troppo elevato e quindi a lungo termine per il futuro dei nostri figli sicuramente vedo più un futuro elettrico rispetto a un futuro legato alla biomassa ma non perché solo nel mondo elettrico questa è una considerazione super partes non perché mi sono specializzato nelle pompe di calore io sono un professionista sono un tecnico quindi analizzano anche le cose come stanno sicuramente se vogliamo un mondo che prosegua e che vada in meglio dal punto di vista ambientale la soluzione è elettrica e non è sicuramente legata alla biomassa quindi al fuoco ea tutte quelle emissioni che ne possono derivare andiamo avanti con un'altra domanda che leggo acqua termica quindi acqua calda sanitaria per quattro persone qual è la soluzione più semplice per un appartamento allora qui si apre un mondo che è quello degli appartamenti infatti il limite degli appartamenti è che magari c'è poco spazio quindi di solito negli appartamenti l'applicazione più congeniale è quella di una pompa di calore da 100 litri che va messa a muro e quindi occupa poco spazio perché sotto puoi metterci anche la lavatrice e consuma 240 watt e quindi consuma come un frigorifero e hai acqua calda sanitaria qual è il limite che una pompa di calore da 100 litri è sufficiente per una o due persone perché poi finisce l'acqua calda e devi aspettare il tempo che reintegra quanto ci mette ci mette due tre quattro ore a seconda di un po di parametri quindi non penso sia il tuo caso che ti voglia aspettare quattro ore per avere di nuovo l'acqua calda sanitaria ci sono famiglie che vivono tranquillamente anche in quattro persone con una pompa da 100 litri però si organizzano nell'utilizzo dell'acqua calda sanitaria quindi alcuni si fanno la doccia la mattina alcuni la sera ecco se questo può rientrare nel tuo progetto di famiglia va bene se altrimenti vuoi avere comunque acqua calda sanitaria disponibile deve andare su un due o trecento litri è comunque un bollitore che deve essere messo a pavimento quindi è un bollitore da 70 centimetri di diametro alto un metro ottanta e che trova il suo spazio in appartamento quindi devi trovare il luogo opportuno per installare questo bollitore deve avere l'allacciamento dell'acqua calda e l'acqua fredda lì vicino e una spina per attaccarci la pompa di calore quindi in appartamento se sei in quattro persone non hai spazio e vuoi acqua sanitaria in abbondanza una soluzione con pompa di calore la trovo difficile da applicare perché la pompa di calore necessita di un accumulo non riesce a produrre acqua calda sanitaria istantanea non c'è verso dobbiamo per forza accumularla e accumulandola abbiamo bisogno di spazio proseguo con le domande pompe di calore professionale secondo lei c'è una marca che spicca sulle altre intanto datemi del tu mi raccomando che lasciamo la burocrazia ai politici siamo tra amici quindi datemi del tu c'è una mac una marca che spicca tra le altre no non c'è sicuramente una marca che spicca tra le altre però c'è da dire che ci sono pompe di calore e pompe di calore il mio consiglio è sempre quello di andare su produttori specializzati nella costruzione di pompe di calore e con questo cosa voglio dire voglio dire che devi farti dare un catalogo e vedere che a catalogo hanno solo pompe di calore che non hanno caldaie che non hanno condizionatori solare termico cosa del genere perché in quel caso molto probabilmente vuol dire che hai di fronte un produttore tuttologo che rimarchia magari i prodotti costruiti da altri ci mette l'etichetta cosa del genere non facciamo di tutta l'erba un fascio però in molti casi è così quindi vai su un produttore di nicchia assicurati che ci sia l'assistenza questo è un altro parametro importante e assicurati che sia un produttore che costruisce pompe di calore almeno da 20 30 anni perché l'esperienza sulle pompe di calore è fondamentale è inutile che prendi a catalogo una pompa di calore nata tre anni fa da un produttore abbastanza nuovo che prima magari commercializzava altre pompe di calore perché i problemi vengono fuori dopo 6-7 anni problemi gravi che se il produttore non li ha risolti prima ti ritrovi a risolverli tu a casa tua col tuo portafoglio in tutto questo per fortuna c'è venuto d'aiuto il baffa che è l'ufficio federale tedesco che ha fatto una lista di 1.176 pompe di calore le ha messe in fila in ordine alfabetico ma la cosa interessante è che su questo documento trovi i rendimenti quindi trovi il cop delle pompe di calore a 7 a 2 gradi e a meno 7 e li puoi confrontare molto velocemente perché è un gran casino trovare tutti i dati di tutte le pompe di calore alcuni ti danno i dati solo a più 7 altri te li danno a più 2 ed è difficile confrontare no poi una scheda tecnica ma è vecchia tu vai lì sulla lista del baffa e ti ritrovi a colpo d'occhio e vai a scrollare quelle che hanno il cop più elevato a 2 gradi esterni perché a 7 gradi esterni quindi a 7 w35 non sono così tanto importanti perché tutte le pompe di calore con 7 gradi all'esterno hanno buone rese la differenza la trovi soprattutto a 2 gradi esterni trovi il link è comunque nel video che ti riporta un mio articolo che ho fatto proprio su questo tema per darti un aiuto a scaricarti questa lista del baffa poi proseguiamo con buonasera ho comprato una casa in condominio costruita nel 2015 la casa è pronta devo solo comprare la caldaia e collegarla ai flessibili del gas io però vorrei non mettere gas e sto valutando una pompa di calore solo che non so quale scegliere ma soprattutto mi fanno un po paura i costi ovviamente piano cottura induzione mi consegneranno la casa a luglio pertanto ho del tempo per valutare il tutto sono 50 metri quasi di impianto a radiatori in alluminio allora anche qui se si tratta di un contesto condominiale sicuramente puoi riscaldare casa con una pompa di calore anche se ci sono i radiatori in alluminio ancora meglio il problema sono gli spazi devi avere lo spazio all'esterno non basta un terrazzino piccolo per mettere una pompa di calore e deve avere ampio spazio all'esterno se abiti al piano terra e hai il tuo giardino top del top e poi devi avere anche uno spazio all'interno per una mini centrale termica dobbiamo comunque accumulare l'acqua calda sanitaria dobbiamo comunque accumulare l'acqua tecnica per l'impianto a radiatori e mettere alcune pompe di rilancio verso l'impianto quindi un minimo di spazio all'interno è necessario i costi sicuramente sono molto più alti rispetto a una caldaia ma con detrazione fiscale ma sicuramente il gap va a ridursi notevolmente oltre al fatto che poi consumerai meno rispetto a una caldaia una caldaia devi considerare poi di rifare il camino l'allacciamento del gas quindi riattivare il contatore insomma tutta una serie di oneri che costano se però non hai lo spazio tecnico per installare una pompa di calore mi spiace ma dovrai purtroppo accontentarti di una caldaia anche se non ti nascondo che stiamo già lavorando dietro le quinte per dei progetti che usciranno tra due anni circa prevederemo delle pompe di calore da poter installare anche dentro casa e che potranno lavorare su impianti a radiatori quindi soluzioni molto compatte ma apposta per appartamenti in condominio non so se questo è il tuo caso nel frattempo se devi entrare ti consiglio di spendere pochi soldi magari su una caldaietta andiamo avanti con in quale momento di una nuova abitazione è più corretto installare la pompa di calore se non c'è fretta nella costruzione bella domanda allora se stai costruendo casa e devi scegliere per una pompa di calore quando installarla il mio consiglio è intanto decidila da subito è fondamentale questo perché decidere da subito qual è la soluzione qual è il modello di pompa di calore ti permette anche di fare quei piccoli passi con il muratore e con l'installatore idraulico corretti senza dover poi demolire tutto perché devi ripassare con i tubi sbagliati cioè sei passato con i tubi sbagliati e devi ripassare con quelli giusti ecco quindi la scelta va fatta da subito ancora in fase di progetto se possibile oppure ancora nella fase grezza della casa quindi li scegli quale pompa di calore per casa tua e quale modello poi l'installazione ti consiglio di farlo invece più tardi possibile perché perché devi avere comunque i seramenti deve avere l'impianto finito dentro casa per poter mettere le unità interne quindi l'installazione va fatta verso la fine proprio quasi tra le ultime cose poi utilizzerai magari la pompa di calore per riscaldare il massetto se stai facendo l'impianto a pavimento oppure altre cose ecco ti può essere comoda anche per solo avere l'acqua calda per fare per lavare la casa per pulire e quant'altro quindi porta l'installazione proprio nuda e cruda della pompa di calore verso la fine magari un po' prima inizia a costruirti la centrale termica quindi inizia a mettere giù i collettori le pompe di rilancio a fare tutte quelle accortezze che possono essere fatte assolutamente prima proseguiamo con vorrei informazioni sulle pompe di calore per acqua calda sanitaria dove può essere installata e se crea problemi in inverno per riscaldare l'acqua l'ho già affrontato in alcuni miei video la pompa di calore per acqua calda sanitaria consiglio sempre di tenerla dentro casa e non di metterla all'esterno per un semplice motivo perché abbiamo 200 300 100 litri di acqua calda dentro un serbatoio che se tu metti fuori che sono 0 gradi lui si raffredda da solo anche se non usi acqua calda quindi anche se non apri i rubinetti cosa significa significa che la pompa di calore lavorerà per molto tempo di giorno solo per tenere l'acqua calda calda e non poterla utilizzare se invece metti questo bollitore all'interno dell'abitazione l'acqua non si raffredda così molto velocemente e quindi la pompa di calore consumerà meno se la metti all'esterno in una nicchia isolata non è il massimo però se proprio proprio la metti lì un mio consiglio è quello di prelevare l'aria dall'interno dell'abitazione quindi prelevi aria calda quindi la pompa di calore lavora con aria calda e rende molto di più rispetto a prelevare l'aria fredda da fuori questa è una cortezza che costa pochissimo che però in pochi ti raccontano quindi mi raccomando è molto importante sì dove messa la pompa di calore quindi sia il caldo il freddo ma anche l'aria che utilizza la pompa di calore per poter funzionare tendenzialmente viene messa in centrale termica quindi un ambiente già pseudo riscaldato comunque non va mai sotto i 12 15 gradi e anche perché lì ci sono proprio tutti gli attacchi dell'acqua calda dell'acqua fredda che poi vanno su tutto l'impianto di casa una cosa importante è che la pompa di calore può essere collegata anche su una doccia che non utilizzi quindi se hai una doccia non utilizzata ci sono gli attacchi dell'acqua fredda e l'acqua calda ecco lì puoi collegare anche la pompa di calore perché l'acqua calda in quell'attacco poi circola in tutto l'impianto non deve per forza passare dalla centrale termica tutto questo ovviamente è vero se non hai un impianto di ricircolo e che comporta invece l'uscita dell'acqua calda proprio lì in centrale termica dove parte tutto l'impianto di ricircolo grazie 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 grazie